Eccoci con Vittorio, ciao Vittorio, ciao Cristian, ciao Vittorio è uno dei nostri trainer ufficiali su Milano che è come gran parte del nostro entourage ormai, visto che è sempre stato il quartier generale e oggi parliamo della prima impressione nelle conoscenze il mio ex capo, quando ho iniziato a lavorare in ufficio come consulente informatico qui a Milano mi disse, a fine era una frase di Dorian Gray, non c'è una seconda possibilità di fare una buona prima impressione e me lo disse perché questo, voglio anche contestualizzarlo, perché io inizialmente non ero bravo a fare quel lavoro là ero veramente una frana, sbagliavo in continuazione e quindi mi disse questa frase ormai guarda ti sei fatto una cattiva reputazione perché purtroppo sbagli in continuazione infatti è stato così, non mi vedevo adatto a quel lavoro applichiamo il studentico concetto nelle conoscenze e lascio la parola a te sì, allora come giustamente hai detto tu, questa cosa si ritrova in diverse dinamiche della vita è ovvio che noi occupandoci di seduzione, quindi andiamo a vedere sicuramente quello che riguarda appunto la conoscenza con appunto il gentil sesso quindi noi quando interagiamo con una persona per la prima volta, noi creiamo un'immagine nella sua mente quindi è importante che questa immagine sia positiva, che porti comunque un qualcosa di positivo a noi per poter massimizzare quelle che sono poi gli esiti positivi di una conoscenza al netto del fatto che poi, voglio dire, la ragazza fondamentalmente deve essere interessata perché altrimenti non ci sono i presupposti, quindi però è importante avere appunto una buona prima impressione e mi volevo focalizzare principalmente su tre punti quindi il primo punto è sicuramente la decisione la decisione che è anche legata a una questione di mentalità perché nel momento in cui, ecco, mi viene in mente sicuramente quando faccio le parti pratiche ai ragazzi se non hanno quella decisione di appunto fare quella, palesarsi di fatto alla ragazza quella roba lì non funziona quindi avere nella mente, ah no ma magari la disturbo, ah ma va di fretta ah ma avrà sicuramente il fidanzato ecco, queste convinzioni vanno a ledere quello che è la nostra decisione interna e di fatto poi ci mettono in una dinamica sfavorevole ma questa è una cosa che facciamo noi stessi con noi stessi quindi è appunto controproducente bisogna avere quindi una giusta decisione quindi un sistema di credenze che ci porta ad agire senza nessun tipo di esitazione non solo cosa ne pensi di questo aspetto? assolutamente d'accordo, la decisione è una delle colonne portanti diciamo del successo, chiamiamolo così, in ambito conoscitivo cioè le ragazze vogliono uomini decisi che sanno far accadere le cose e non devono essere loro che si devono assumere la responsabilità di farle accadere assolutamente, assolutamente anche perché poi è un tratto anche assolutamente attrattivo per la ragazza avere questo tipo di approccio di intraprendenza di andarsi a prendere quello che noi vogliamo adesso senza nessun tipo di esitazione perché del resto quali sono i limiti se non i limiti che ci auto imponiamo noi quindi avere una giusta decisione è cruciale è cruciale dopodiché energia quindi sembra un po' connessa la cosa ma in realtà è un attimo diversa perché nel momento in cui noi magari interagiamo con una persona ecco ritornando sempre nelle dinamiche di conoscenze di giorno magari c'è quella ragazza che ha appena finito di lavorare è completamente scarica perché è stata sommersa da tantissime richieste del capo, del collega, eccetera quindi è completamente esausta e magari cammina con quest'andamento tanto, tanto lento perché appunto, insomma, è completamente scarica come dicevo quindi noi ci palesiamo lì e in maniera assolutamente esuberante vabbè, al di là di quella che può essere la frase ciao, io sono bla 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 quindi entriamo con un approccio così forte così irruento che la ragazza non può che spaventarsi allo stesso tempo se magari troviamo non so la classica ragazza che sta andando con la stessa amica non lo so in un locale quindi hanno magari anche quell'andamento veloce nel camminare si stanno facendo selfie stanno scherzando hanno un tono di voce molto alto noi andiamo lì ciao ti ho vista cioè con questa proprio con questa apatia con questa con questa flemma ecco anche in quel caso cioè non spaventiamo la ragazza anzi lì la reazione che abbiamo è indifferenza totale magari non ci nota neanche quindi è assolutamente sì forse stai per dire qualcosa sì volevo aggiungere una cosa visto che l'energia è un tema molto particolare io nella mia esperienza da trainer ho fatto tanti corsi al vivo adesso non li facciamo più perché non abbiamo il tempo di farli e sono troppe persone che si affidano al play lover ma una delle costanti su cui le persone erano carenti era proprio l'energia ok energia che in fase di prima conoscenza non mettevano e quindi le ragazze o non si fermavano o non davano loro attenzione o non li percepivano ok quindi la mancanza di energia ti fa perdere immediatamente l'opportunità di conoscere la ragazza di turno vai sì sono assolutamente concordo infatti per la maggior parte dei casi è proprio la mancanza di energia una mancanza di energia che è strettamente collegata alla titubanza alla paura all'ansia e quindi sei bloccato proprio anche a livello corporeo cioè sei proprio rigido a livello muscolare e quella cosa lì non ti permette di essere di applicare appunto di avere la giusta energia in maniera contestuale perché poi l'energia da utilizzare come facevo prima gli esempi è da contestualizzare quindi è da calibrare situazione in situazione per essere poi efficaci nella conoscenza di turno che noi stiamo provando a fare ok perfetto terzo elemento che avevi? linguaggio del corpo linguaggio del corpo quindi è anche questo un elemento cruciale nel momento in cui noi interagiamo con una persona noi non interagiamo soltanto con le parole interagiamo anche con altri elementi che di fatto comunicano qualcosa poi le ragazze sono assolutamente percettive da questo punto di vista quindi quando noi magari andiamo lì e non abbiamo quello sguardo fisso quell'eye contact che riusciamo a mantenere noi lì subcomunichiamo incertezza perché distogliamo lo sguardo non riusciamo ad avere quella sicurezza di guardare fisso negli occhi la ragazza che non significa avere lo sguardo da serial killer che è la scrutia eccetera però quantomeno avere quella sicurezza appunto di guardarla negli occhi senza nessun tipo di titubanza piuttosto che occupare il giusto spazio quindi non andare con le spalle chine quindi serie di elementi a livello di linguaggio del corpo che noi in maniera conscia piuttosto che inconscia noi adottiamo e queste ultime trasmettono per forza di cose qualcosa quindi è importante andare ad avere un linguaggio del corpo che sia di una persona sicura che sa il fatto suo che sia congruente anche con quello che noi stiamo facendo assolutamente sì Vittorio sono estremamente d'accordo su tutti e tre gli elementi che hai dato e sono da da coltivare da tenere in considerazione in una prima conoscenza altrimenti si vede sfumare opportunità proprio ancora prima che nasca perfetto un saluto e alla prossima ciao Cristian ciao ciao